Sequestro di beni per un valore di circa 1,5 milioni di euro a danno di tre persone ritenute responsabili di frode fiscale. La Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un'ordinanza di sequestro di beni emessa dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno a carico di tre soggetti di 65, 66 e 49 anni che a seguito indagini investigative avrebbero immesso sul mercato 60 milioni di litri di gasolio per uso agevolato comunemente noto come gasolio agricolo, per usi non consentiti e soggetti ad una maggiore imposta riuscendo così ad effettuare un'evasione fiscale di IVA e di accise per oltre 40 milioni di euro. Nel dettaglio la misura cautelare messa su richiesta della Procura di Salerno ed eseguita dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro di 8 unità immobiliari ricadenti nei comuni di Battipaglia, Capaccio Pestum, Eboli e Salerno e di tre società per un valore complessivo di beni sequestrati pari a circa 1 milione e 500 mila euro riconducibili ai soggetti interessati dai sequestri a cui viene contestata una sproporzione tra il valore patrimoniale detenuto anche per il tramite di familiari e conviventi e il reddito dichiarato ai fini fiscali, tale da farlo ritenere in parte derivante da attività illecite. Secondo l'attività investigativa, spiegano dalla Procura della Repubblica di Salerno sarebbero stati immessi sul mercato circa 60 milioni di litri di gasolio per fini agricoli per finalità diverse da quelle previste dalla normativa di favore quindi per usi soggetti a maggiore imposta che ha portato all'evasione di IVA e di ACISE per oltre 40 milioni di euro.